Buonasera, buonasera, siamo a casa di Giuseppe Monticone, il nostro amico, stiamo cercando di portare in salvo almeno le attrezzature più preziose, più delicate, perché il Tano non sembra che voglia venire su, ecco sta cercando di smollare la mola, si stanno portando in salvo alcune, i trattori, ecco stiamo lavorando per aiutare il nostro amico Giuseppe, ecco sta portando, sta portando su il trattorino, almeno salvare il salvabile, qui siamo in zona, come si chiama, via Forlandini, ecco questa è l'officina, sottostante la casa, Giuseppe è stato quattro volte all'uvione e veramente, ecco, cercando